Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Italia sotto shock, è appena morta, la nota VIP. In questo video parliamo di un fatto di cronaca che ha sconvolto un'intera comunità e prima di saperne di più vi ricordo che a 200 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video. In questo video parliamo di un fatto che ha sconvolto l'intera città di Pordenone. Ha 58 anni, a seguito di Malure Improvviso, è scomparsa la nota editrice pordenonese Paola Tantulli. La donna si è sentita male nella serata di ieri mentre si trovava tra gli stand del Festival Letterario. Pordenone Legge successivamente è stata ricoverata in ospedale dove si è spenta e il, secondo me, Marco Liguori, con tutto il dispiacere del mondo, fa le più sentite condoglianze all'editrice pordenonese Paola Tantulli, scomparsa a seguito di Malure Improvviso. Ha soli 58 anni. Chi l'ha conosciuto ci dice che Paola era una persona generosa e faceva del bene a tutti. Che possa riposare in pace, amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Seguitemi anche sul primo canale di Marco Liguori, il canale principale. Seguitemi anche sul nuovo canale di psicologia, Marco Liguori. Psicologia e crescita personale. Ciao a tutti.